Sto bene adesso, devo solo finire queste due o tre settimane, secondo me dovrebbero bastare e spero di regregarmi in gruppo il più presto possibile. L'infortunio è stato un bel colpo, nel senso che finalmente stavo vivendo il mio anno dove ho iniziato a giocare e l'infortunio che mi ha stroncato un attimo è stato duro da digerire, ma con l'aiuto dei tifosi, della famiglia e tutto, piano piano mi sono messo in testa che sono cose che capitano e di tornare il prima possibile. Io mi sono operato il 2 gennaio e ho iniziato la riabilitazione all'isocinetica a Bologna, più o meno una settimana dopo, però purtroppo dopo neanche un mese c'è stato il lockdown e sono dovuto rimanere a Modena, a casa mia, da infortunato. E' stato un momento abbastanza duro perché stare infortunato a casa e non poter comunque allenarsi e far niente per tornare in forma, soprattutto mentalmente è stato un po' duro. Stare sempre da solo dopo un po' inizia a essere pesante come situazione, però comunque ero sempre in contatto con amici, famiglia, con fisioterapista, riuscivo anche a tenermi impegnata la giornata pur stando a casa. Una pandemia di sicuro non fa piacere, però ho avuto un po' di fortuna perché anche se mi sono rotto un crociato e dovrei aver finito la stagione, ho la speranza di riuscire a tornare almeno per una parte del campionato. Includere il campionato in questa maniera qua, giocando ogni tre giorni che non siamo abituati, perché è la prima volta che ci capita, poi durante l'estate che è la prima volta che giochiamo sotto al sole d'estate con questi gradi qua, secondo me sarà dura, sarà dura, però cercheremo di fare il nostro meglio e di portare a casa il nostro obiettivo. Io la squadra l'ho vista molto pronta, io essendo stato lontano dai campi per 4-5 mesi e soprattutto due mesi dove non li ho visti, quando sono tornato ho visto anche un aumento della qualità, un modo di giocare che prima non avevamo, forse è arrivata la consapevolezza, la tranquillità e secondo me potrà aiutarci molto questo nel campionato adesso. Ripartire con gli stadi chiusi senza tifosi secondo me diciamo che per noi sarà dura, perché era una grande nostra forza la Sud, i nostri tifosi. Sarà difficile perché senza la loro spinta sarà molto difficile, ma come è per noi questa difficoltà lo sarà per gli altri, quindi in trasferta sfrutteremo questa loro difficoltà per portare a casa il nostro obiettivo e i nostri punti. Il campionato riparte con due impegni difficili che sono intra e Roma, ma giocando ogni tre giorni di sicuro le difficoltà come ce le abbiamo noi ce le hanno anche loro, quindi dobbiamo cercare di essere pronti come mi sembra che siamo e portare a casa i più punti possibili. I nostri tifosi li ringrazio, li ringrazierò sempre perché mi hanno accolto come mai nessuno l'ha fatto da quando gioco, mi hanno dato tanto anche quando non giocavo il primo anno che sono arrivato, hanno sempre creduto in me e mi hanno aiutato tantissimo a superare questo infortunio che ho avuto. Io adesso loro gli chiedo di starci sempre vicini, anche se non posso venire a sostenerci allo stadio e gli prometto che raggiungeremo il nostro obiettivo.